Noi diciamo che non ne vogliamo più, noi ne abbiamo già abbastanza e in ogni zona sono più loro che noi. I nostri abitanti non hanno case, invadono le abitazioni sfitte perché non sanno dove andare. Questi arrivano e vengono ospitati e prendono dei soldi. E' ora di finirla. Noi vogliamo rispetto. La nostra città è una bellissima città, ma non riusciamo più a viverla. Adesso, quest'ora qui, in questa via, che era abitatissima ed era vissuta, adesso è tutto chiuso. Non ci sono più negozi, la gente ha paura a girare e noi non sappiamo più cosa fare. Vorremmo che lei parlasse delle nostre bellezze, parlasse della nostra città, della nostra ospitalità e non di continuamente queste cose. E G8, e alluvioni, e morti. No, vogliamo che la nostra città viva, ma viva con serenità. E non vogliamo essere tacciati da persone razziste perché non lo siamo. Vogliamo soltanto sicurezza e poter vivere nella nostra città.